Buongiorno ragazzuoli e ragazzuole, non mi ricordo più come si girano i video, questa è la terza volta che provo a girare questo video, questo è anche un video facile perché è il video del prossimo saluto di lettura in cui fondamentalmente vi devo dare 4 informazioni, 4 e poi la cosa si conclude lì, tra l'altro queste 4 informazioni che vi do a voce le trovate anche in to my friend info ciccino che vi saluta sempre and is very happy quando voi lo salutate, grazie, grazie altrettanto. Quindi ce la posso fare, ce la posso fare, intanto bentornati, bentornati dalle vacanze, se siete tornati dalle vacanze, siete ancora in vacanze, in vacanze, se siete ancora in vacanze, I invite you very much, bravi, bravissimi, fate bene, state in vacanza finché potete. In teoria i salotti di lettura devono essere come dire bloccati in questo periodo estivo, non è successo, ci sono stati salotti di lettura improvvisati, alcuni li abbiamo organizzati così debotto e senza senso su Instagram, altri li abbiamo dovuti anticipare tipo quello di Dune, quello di Dune doveva partire a settembre, in realtà è partito a luglio quando avevo fatto il video, non mi ricordo quando è stato pubblicato, però è iniziato il 22 di agosto, il salotto di Dune ma si concluderà adesso ai primi di settembre, cioè adesso per te che stai guardando il video, non adesso per me perché adesso che io sto girando non è ancora settembre, però si concluderà abbastanza alla svelta perché hanno anticipato l'uscita del film e di conseguenza mi si è slittato tutto in anticipo, mi si è anticipato anche il prossimo salotto di lettura che volevo appunto proporvi. Non so se vi siete accorti in questo periodo, forse sì, forse no, chi lo sa, bisogna vedere quanto effettivamente stavate sul pezzo, ma mi è partita giusto una leggera fissa, non so cosa sta succedendo di là, ma secondo me c'è, come dire, si stanno tutti ribellando gli animali di casa, comunque mi è partita questa leggera fissa per il Giappone. Io non è che non avevo mai letto qualcosa di letteratura giapponese, mi è effettivamente capitato di leggere degli autori giapponesi, degli autori orientali in generale, solo che non sono mai stata tirata dentro nel vortice, non sono mai stata una lettrice sfegatata di manga, anche lì sì mi è capitato, però non in maniera ossessivo-compulsiva, adesso sto sperimentando cosa vuol dire avere un'ossessione totale nei riguardi di un certo tipo di letteratura, cioè non che io non abbia avuto queste fissazioni mega per un determinato autore o per un determinato genere, perché ce l'ho avuto, ma per una letteratura in generale forse è la prima volta, ed è una cosa che mi sta un po' spiazzando, perché è tipo quella cosa del voglio sapere tutto, voglio leggere tutto, perché sono arrivata soltanto adesso, che cioè è devastante onestamente per quanto mi riguarda. Quindi in realtà questo romanzo ve lo volevo proporre al di là di questa fissazione che ho avuto già da un po', perché volevo leggerlo già da un po'. Il romanzo in questione, che adesso vi farò vedere, non vi spaventate dalla mole, ma chi di voi ha partecipato ai vari salotti, Guerra e Pace, l'Azteco, che è stato l'ultimo grosso che abbiamo fatto, cioè dice ma che è, ma è un scherzo, è questo, Shogun di James Clevel. Adesso vi racconto la trama, chiaramente è un viaggio che facciamo in Giappone, dopo il Messico degli Azteki, qua ci trasferiamo, ma neanche dall'altra parte, perché se andiamo dal Messico in Giappone, in realtà non è neanche tanta strada che dobbiamo fare, non è che dobbiamo fare il giro da tutto il resto del mondo. Però ci spostiamo in Giappone, andiamo alla scoperta del Giappone, lo facciamo tra l'altro proprio col protagonista, che non è giapponese, perché è questo John Blackthorn, che qua nella trama è scritto in inglese, ma non so perché nel mio cervello era olandese, boh, o ha sbagliato la trama della mia edizione o non lo so. John Blackthorn è un navigatore, un commerciante, fa naufragio in Giappone, del Giappone non sa nulla, non sa la lingua, non sa la cultura, non sa una beata mazza, ci troviamo nel 600, per cui è in Giappone ancora molto chiuso, come se adesso fosse aperto e assolutamente pronto ad accogliere, no, in realtà quello sì, però non si può dire che non sia ancora abbastanza chiuso nelle sue tradizioni, sì, sicuramente molto bene rispetto ad una volta, ma definirlo così super ultramoderno non lo so, cioè nel senso è l'unico paese al mondo che ancora il capo di stato si chiama imperatore, capito? Non re, imperatore, cioè l'imperatore del Giappone, non esiste, cioè a me viene in mente l'impero galattico, cioè il Giappone c'è l'imperatore, che io lo so che ha il Giappone, cioè l'ho introiettata nel cervello questa cosa da, non lo so, da quando andavo a scuola, ma tutte le volte che sento dire imperatore del Giappone, dico, minchia, imperatore del Giappone, per cui è così. Loro ci troviamo nel 600, per cui in Meiamo, perché appunto era ancora tutto più, cioè ma te chi cacchio vuoi, chi cacchio sei, ma vattene, tutto questo in giapponese ovviamente, che non so come si dica, però va bene lo stesso, e ci diverteremo un sacco, questo salotto me lo sento, per cui c'è questo John Blackthorn che è europeo, che si ritrova in una cultura completamente diversa dalla sua e deve affrontare varie ed eventuali e imparare come noi, o almeno come me, che io di cultura giapponese ne so veramente pochissimo me, ignorante totale, deve imparare appunto a conoscere e a riuscire ad entrare in questo nuovo mondo. La sua controparte giapponese, o meglio, l'altro grande protagonista di questo romanzo, è questo samurai che si chiama, lo leggo semplicemente perché io ho adesso in mente il personaggio più ispirato, che non si chiama così, si chiama Toranaga, che è questo principe di Osaka, che è ispirato a un famoso samurai che si chiama Tokugawa Yeyazu, Yeyazu, sì, che se volete sapere la storia di appunto questo famoso samurai che è stato, se non mi ricordo male, il clan dei Tokugawa, è stato l'ultimo grande shogunato del Giappone, l'ultimo si però, questo dovrei averci ragione, cioè, lui appunto a capo di questo shogunato, il capostipite, se volete sapere tutta la storia che ci sta dietro a lui e tutti gli altri che ci giravano attorno, vi consiglio, poi ve lo scrivo qua sotto e andare a recuperare il docufilm, chiamiamolo così, su Netflix, che si chiama Age of Samurai. Se non volete sapere nulla e scopriamo tutto leggendo questo, perché io non so in che misura Toranaga sia effettivamente ispirato a Yeyazu, cioè, non so se tanto, poco, un 10%, un 90%, la storia è la stessa, la storia però ad un certo punto differisce, cioè, io so la storia di Yeyazu, però non so quella del romanzo questo, perché non l'ho mai letto. Decidete voi, io comunque qua sotto vi metto tutte le info, vi metto le varie pagine, è un documentario che io dopo, magari, se non durante, se non prima, dopo vi consiglio di andare a recuperare, perché al di là che è fatto benissimo, è una figata pazzesca, perché ci sono un sacco di intrini tra la... cioè, nel senso, hanno un modo, secondo me, di farsi anche guerra, di farsi battaglia e desonarsele, che è pazzesco, perché è completamente diverso dalla maniera europea. Cioè, c'è anche un onore, un rispetto delle regole, che noi proprio ce la sogniamo totalmente, proprio totale, completamente, cioè, tipo le guerre europee, sembra veramente partecipanti allo sbaraglio. Prendi, vai, picchia, prima fai l'alleanza con uno, dopo due giorni, no, basta, te mi stai antipatico, ma alleo con quell'altro, dopo due ore, no, senti, vai, ciao, e mi alleo con quell'altro ancora. Cioè, questa è una cosa meravigliosa, cioè, in confronto questi, cioè, mamma mia, a parte il fatto che si tengono le carogne sulle spalle per degli anni, ed è una roba che... ma sono pazzeschi, cioè, questi faccia di bronzo, gli monta sta carogna addosso, e ti... ma cazzo ti farò far morirai, eh, porca miseria, riuscirò a un altro drama, devi farti fuori. Però, cioè, tutti, capito, lì, dove... pazzeschi, pazzeschi. Per cui, questo salotto di lettura, appunto, Shogun di James Clevel, inizierà il 3 di ottobre. Cosa vuol dire? Che il 3 di ottobre ci ritroviamo per parlare dei primi nove capitoli. Qua sotto io vi metto tutte le info, cioè, tutte le date degli incontri, con, appunto, il capitolo fin dove si arriva a leggere. L'ultimo incontro probabilmente sarà una live. Vorrei fare una cosa molto carina. Siccome, quando abbiamo fatto il salotto di lettura Jane Austen, Angelica era venuta, abbiamo fatto l'ultimo incontro con lei, che ci aveva tolto tutte le curiosità. Con l'azteco non ero riuscita a farla, perché bisognava trovare qualcuno che le sapesse, tutte le curiosità a tema, appunto, aztechi, e credo che non sia semplicissimo. Ma trovare qualcuno che ne sa pacchi su il Giappone di quest'epoca, secondo me, è un po' più facile. Per cui, se conoscete qualcuno, se, non lo so, se voi ne sapete a pacchi, mi potete scrivere o in mail, o qua sotto, o su Instagram, e ci mettiamo d'accordo, ed eventualmente facciamo una live insieme, e ne parliamo insieme, e ovviamente all'ultimo incontro facciamo una live pazzesca, in cui poi ci leghiamo tutte le varie curiosità su questo meraviglioso periodo storico, e su questo paese, e su tutti questi intrallazzi tra samurai che si è meno, e tutte queste cose. Poi, l'edizione da comprare di Shogun. Shogun adesso lo trovate in buon piani, si trova tranquillamente, lo trovate su Amazon, lo trovate dove volete, in libreria, l'ho visto praticamente sempre. Al 98%, vi dico, si trova anche usato. Io l'ho trovato su eBay, lo trovate. L'ho trovato su Libraccio, lo trovate su Comprovendo Libri, l'ho trovato ovunque usato, cioè non è particolarmente complesso da trovare, ve lo può anche dimostrare Chiara, Chiara lei, se non mi ricordo male, di recente se l'hai comprato usato su Libraccio. Se non lo trovate lì, lo trovate sui mercatini, insomma è un romanzo abbastanza di facile reperibilità, non è uno dei miei soliti fuori catalogo, per cui state tranquilli. Cioè, esattamente come l'Azteco, che potevate comprarlo nuovo, ma si trovava tranquillamente all'usato. Io tutte le volte che vado su un mercatino dell'usato, o un negozio dell'usato, vi giuro che l'Azteco c'è sempre, sempre, cioè è lì, sempre. Per cui Shogun non così tanto spesso, ma si trova abbastanza facilmente. Altre info? Ah, ovviamente tutti gli incontri si svolgeranno su Telegram, qua sotto c'è il link di Telegram, per cui, per riassumere, prossimo salotto di lettura, Shogun di James Clevel, Giappone. Se siete fan del Giappone del 600 e Giappone storico, here we are. Si inizia il 3 di ottobre, con i primi nuovi capitoli, tutta la divisione e tutti gli incontri ve li metto qua sotto nel linfo ciccino. Tutta questa divisione la troverete anche nel gruppo di Telegram, il link del gruppo di Telegram è qua sotto, nel linfo ciccino. Io vi metto comunque il link di Amazon per recuperare Shogun, ma lo trovate tranquillamente anche usato, per cui vedete voi, se lo volete nuovo, se lo vedete usato. Il salotto dirà dal 3 di ottobre al 14 di novembre. Il 14 di novembre, o un po' più in là, dipende comunque, all'ultimo incontro, puntava appunto a fare una live con qualcuno che ne sapesse a pacchi del Giappone, o comunque fosse abbastanza esperto di questo periodo storico, che ci possesse togliere un po' di curiosità, perché sicuramente ci verranno le curiosità. Se volete vederlo, io vi attacco qua sotto il link a Netflix, se avete Netflix, del documentario, comunque vi scrivo il nome perché magari ve l'ho recuperato in qualche altra maniera. Tempo fa mi mandarono, secondo me, un link anche di alcuni documentari che fece Barbero sulla storia del Giappone. Se trovo, cioè se li ritrovo il link, se trovo una puntata a tema appunto a questo periodo storico, cioè quello con il protagonista Yeyasu, quella di Tokugawa, io lo chiamo Yeyasu, siamo in amicizia, però in teoria del clan è Tokugawa, perché non so se lo sapete, ma sicuramente lo sapete, che prima si mette il cognome e poi il nome in Giappone. Ve lo metto qua sotto. Comunque Info Ciccino is fonte of information superpower, per cui read the Info Ciccino as always. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, ci vediamo presto, ci leggiamo appunto in Giappone, sono molto entusiasta e molto felice, PS, sì, il Conte di Monte Cristo lo leggeremo, perché io lo so che alcuni di voi hanno voglia di scrivermi, ma il Conte di Monte Cristo lo leggeremo, sta lì, tra l'altro, è il Conte di Monte Cristo, lo leggeremo, non vi preoccupate, con calma può arrivare anche il turno del Conte di Monte Cristo, però ci tenevo molto di più a leggere appunto Shogun, perché è tanto che lo voglio leggere, ma lo volevo leggere con voi, perché mi piace questa cosa di andare in giro e di scoprire vari ed eventuali paesi del mondo. Io, come avevo detto prima, vi mando un bacio, un abbraccio e ci diamo molto presto, ci leggiamo molto presto nell'Info Ciccino, Instagram, Twitter, la mail, tutto qua, l'Amazon Shop, non ve lo dico mai, però ve lo dico adesso, in cui ci sono più o meno tutti i romanzi di cui vi parlo sempre e di cui li trovate lì, sono link affiliati, non ve lo sto a dir, lo sapete già, cioè non è che pagate di più, ma banalmente una parte di quello che voi comprate va a me, con cui compro dei libri, con cui vi rompo i coglioni, è tutto, è tutto un, una cosa che va in coda. A presto! Grazie.